Bentornati ragazzi sul canale nuovo boss in Dark Souls 3, diaconi della profondità. Per non avere problemi cercate di correre dal falò e non uccidere nessun nemico durante il percorso. Soprattutto state attenti al gigante che vi ostacola il passaggio. La prima fase non è poi tanto difficile, dovete attaccare solamente il diacono che è avvolto da un'aura rossa. Grazie a tutti. La seconda fase diventa più difficile perché avrete i diaconi che vi lanceranno delle palle infuocate e altri che vi lanceranno la magia nera. Attenzione perché quest'ultimo attacco se vi colpisce più volte vi porterà allo status maledizione. Nel secondo round dovete rotolare il più possibile con il vostro personaggio fino ad arrivare al boss che è l'unico non morto avvolto da un'aura rossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come regalo riceverete bambolina e anima dei diaconi delle profondità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.